quello che io vi sto dicendo c'è scritto in quel testo è un nuovo manuale facciamo tutte questi la parte questa parte qui delle corse e gli ostacoli ho preso a via famiglia è allegato ad atletica studi venite però dai quindi anche quello che scrivete anche queste proiezioni passaggio dalla marcia c'è scritto tutti i vari passaggi e cosa dovete fare capite quindi li trovate come come successioni ce ne sono tante tra cui anche questa quello che vi voglio dire su questo è che ribadire un concetto cioè quando noi lavoriamo sull'apprendimento sempre la corsa più i gesti sono ampi più le capacità di controllo diminuiscono per due motivi il primo è quello che ho detto prima no? che più parti del corpo sono lontani dal centro di gravità più la capacità di controllo diminuisce poi l'altro aspetto è che più i movimenti sono ampi più bisogna applicare forza capite? quindi parti che stanno lontane dal corpo bisogna applicare forza perché se io devo produrre più spazio con un passo devo mettere più forza a terra quindi quando devo apprendere questi sono elementi che disturbano quindi quando voi proponete delle esercitazioni ai ragazzi no? andature oppure esercitazioni varie di corse se vi dite che devono tenersi un pochino più stretti col passo qualcuno di voi per esempio lei sta sempre ampia no? e non controlli però capito? se venessi il passo poco poco più corto poco poco più dinamica hai più la sensazione di quello che devi fare d'accordo? queste due cose quindi adesso io vi chiedo di continuare a fare questo lavoro vedete? ma lì al coperto io ti chiedo ma sta andando bello qua lì se non si accende? lì è un foglio ma non è inizionato? eh no no ma ti sta bene qua? tanto ragazzi mancano 50 minuti 50 allora cerchiamo di andare avanti adesso quello che dovete fare vi chiedo di fare partire con questa esercitazione state stretti con i piedi capite? fate passi corti fate questo tac via spezzo il ginocchio tac via spezzo il ginocchio tac via ok? man mano che andate avanti prima fate tallone pianta punta tallone pianta punta poi fate pianta punta pianta punta poi metà tarso via quindi dovete fare tutte le sfumature ok? cioè praticamente dovete partire con questa esercitazione alla fine vi dovete trovare che correte e correte bene detto detto ok?